Tg delle scienze Edizione straordinaria Li alunni della classe prima di dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Martina Franca hanno saputo che la loro amica natura non sempre viene rispettata I bimbi amano fiori, frutti, piante, animali e ambienti bellissimi Hanno deciso perciò di fare un viaggio tra fantasia e realtà quasi come quello di un certo Darwin per verificare se tutto va bene raccoglie informazioni utili per aiutare la natura a proteggersi In giro ci sono molti nemici della natura da tenere sotto controllo Riusciranno i nostri eroi a portare la termina consegna Loro ci provano e sicuramente aiuteranno la natura